Occhio al tiro da fuori di Milan, rimballo nuovamente che premia di nuovo Benassero, sulla sinistra che sì, prova a girarsi che sì, col mancino il cross, ci arriva Brahim Diaz e è in aria dal lato corto di destra, prova a puntare l'uomo Brahim Diaz, cerca anche un contatto che non arriva. Ce l'ho detto, ce l'ho detto, leao, leao mio Leo mio! Dio la verità Enzo Leo mio! Entro due anni PALLONE D'ORO Leao! Che gol! Occhio perché arriva un giallo, anzi arriva qualcosa di peggio Chi è? Un rosso Chi è stato espulso? Perché c'è un doppio giallo probabilmente Attenzione! No Rebic, è stato espulso Rebic Non lo so chi è stato espulso, non si capisce ancora Credo che si perché protesta molto E' lui, doppio giallo perché si Arriva da dietro il tocco Si? Così non vediamo niente È un momento di tv bellissimo, posso dirlo? È un momento di televisione che rimarrà negli anni Allora, che si entra, entra qui Però... Sul piede, sul piede Sopra Sulla parte esterna del piede Sulla parte esterna Gli da un pestone Pestone? Hai già un giallo, non fai quella entrata Quindi ci sta... Ci sta il rosso per tutti Ci sta, ci sta la doppia Allora, ci può stare il secondo giallo Perché se no non sarebbe stato un fallo da rosso diretto Quindi, uno che è già ammonito Comunque sia È ingenuo comunque entrare Se fai falli comunque da dietro Da dietro Rischi sempre Non era cattivo Ma... Goal! Goal! Andiamola a vincere adesso Andiamola a vincere Michele Andiamola a vincere Griezmann Griezmann Sì è entrato Griezmann Ragazzi scopo Goal! Occhio di nuovo all'Atletico L'Atletico in area No L'area piccola Via Ma che fia Il rimpallo fischia qualcosa l'altro Rigore! 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 Mano! Rigore! E rigore! Rigore per un fallo di mano al novantatresimo Novantatresimo Rigore per un fallo di mano a San Siro Il Milan rischia la beffa La beffa totale Hai Marco che rigore Anche il rigore Vediamo se c'è questo fallo di mano Eh... Ma... C'è questo fallo di mano Dipende chi l'ha preso per primo di mano L'ha preso per prima quella dell'Atletico Madrid Un'espulsione Un rigore Bravo 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 Chi di rigore gioisce Anzi novantaseiesimo in corso Di rigore perisce Andarlo a cercare con questa distanza No no Perché siamo teta teta Siamo teta teta Si vede che tenta di fare questo Se fanno rivedere le immagini lo vedi Guarda bene No ma io l'ho vista Il problema è che la... Vieni qua La vicinanza Il pallone è l'unica cosa che distanzia No è l'unica cosa che distanzia me e te Il pallone Beh se sei così vicino Io non ne ho visti tantissimi di rigori dati così Poi uno ti fa Suarez L'altro ti fa Magnano ovviamente Dai Mike Suarez La rincorsa Il tiro di Suarez Voglio Rigoraccio tra l'altro Viva mia